Registrazione video Honor 8 Pro 4K, zoom digitale che a occhio non c'è un'indicazione precisa ma a occhio sembra essere un 4x Torniamo indietro, movimento rapido, cambio di luce, cambio di messa a fuoco, preciso, non velocissimo ma preciso Di nuovo all'infinito, registrazione 4K Honor 8 Pro Grazie 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 fotocamera frontale Honor 8 Pro video in full HD campo devo dire abbastanza stretto infatti devo un po' inclinarlo per farmi ci stare tutto nei video precedenti avete visto anche la possibilità di abilitare l'effetto sfocatura in tempo reale con invece la fotocamera principale adesso faccio rapidamente un controluce fotocamera frontale 1080p Honor 8 Pro